Il botta e risposta tra Lega e Stefano Guzzi è scaturito tutto dalla sua presenza al tavolo di presentazione della ciclovia del Metauro a fianco alla linea ferroviaria Fano Urbino, fatta dal governatore Ceriscioli proprio nel comune di Colli al Metauro, fortemente voluta e pensata dal centro-sinistra, PD in testa. Tanto è bastato alla Lega Fano per gridare nei giorni scorsi allo scandalo per voce del suo segretario provinciale Doglioni, che del ripristino della tratta di smessa a Fano Urbino ne aveva fatto un tema da campagna elettorale e per affermare che Aguzzi non solo non ha avvisato nessuno di questo appoggio, ma che con questo atto non è più un sindaco rappresentativo del centro-destra. Oggi pronta arriva la replica ovviamente del diretto interessato. Rispetto alla possibilità di realizzare una pesta ciclabile da Fano fino a Tavernelle di Colli al Metauro, io sono perfettamente d'accordo. È una struttura che serve. Pensate a cosa voglia dire un collegamento tipo tra il quartiere di Sant'Urso a Fano e il quartiere di San Lazzaro, o tra Calcinelli e Tavernelle, o tra Lucrezia e Carrara o Cucurano. C'è tanti motivi per doversi spostare oggi lungo la Flaminia che è pericolosissimo. Oltretutto sembrerebbe che non ci sia incompatibilità tra ferrovia e pista ciclabile, non vedo perché non dovremmo e non dovrei essere d'accordo come sindaco. Domattina c'è una conferenza di servizio in regione su questo. Io parteciperò personalmente e sosterrò la pista ciclabile. Qualora capisci che fosse un blef elettorale da parte di qualcuno, sarei il primo a denunciarlo. Per quel che riguarda le affermazioni del segretario della Liga, io non è che voglio replicare politicamente, faccio solo una precisazione. C'è un rapporto politico tra partiti e un rapporto istituzionale tra chi ricopre incarichi. Un sindaco parla con le altre istituzioni, non importa di che partito sono le altre istituzioni. Quando io ero sindaco Fano ho ottenuto 5 milioni di euro per le ristrutturazioni scolastiche dalla loro governo Renzi. E io ero un sindaco di centrodestra, come lo sono oggi. Oggi con quei 5 milioni l'attuale amministrazione sta costruendo la nuova scuola di Cucurano e Carrara. Per quel che riguarda la Colli al Metauro abbiamo ottenuto 980 mila euro dalla regione Marche per la ristrutturazione della scuola Dezzi di Saltara. Non è che abbiamo guardato il colore politico, quindi i rapporti istituzionali un sindaco lo tiene con chi è opportuno che li tenga. Per quel che riguarda la politica, tra tre mesi si votano le elezioni regionali. Io inviterei il segretario della Lega ad unire il centrodestra, non a dividerlo. Ci sono molti sindaci civici come me in questa provincia che votano il centrodestra. Io voto Forza Italia, non voto Lega. Però voto il centrodestra lo vorrei unito con un buon candidato per poter vincere le regioni. Certo che se Doglioni continua a dividere non dà un contributo in questo senso.